E' il quinto anno in cui Menarini continua il suo sodalizio con il premio Fair Play che non a caso si chiama premio Fair Play Menarini. Si tratta di un sodalizio che non è una semplice sponsorizzazione ma una condivisione di valori, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, l'etica. Ecco, sono i valori che guidano Menarini nell'attività di tutti i giorni e che condividiamo con il premio Fair Play. Quest'anno ci sono dei premiati eccezionali. Per chi ama il calcio ci sarà Zvonimir Bovan, centrocampista del Milan, il difensore del Cagliari Fabio Pisacane che è stato premiato dal Guardian quest'anno come giocatore dell'anno. Ci sarà Ivan Zaitsev che è un noto pallavolista, lo zar della pallavolo italiana e ci sarà Fabrizio Donato, un triplista di valore mondiale. Il premio Fair Play Menarini consente a tutti noi di sognare, sognare un mondo migliore, un mondo nel quale l'esempio è dato dal grande campione che nella vita sa essere rispettoso delle regole, dell'etica, dell'avversario. Alcuni dei grandi sportivi premiati in passato ancora oggi portano in giro i valori del premio Fair Play Menarini. Pensiamo a campioni come Antonioni, come Batistuta, come Sasha Danilovic, Carlton Myers, tutti i campioni che oggi sono l'esempio e sono il simbolo del Fair Play nel mondo.